Eccoci qui. Oggi proviamo la 500 ABBA del mio fratello della nuova nuova. Scorpione ha detto che me la fa guidare ma dopo. Siamo a San Benedetto del Tronzo, Molo Swift, 500 Abarth e CLA45 AMG che proveremo prossimamente, non tanto di launch control. E' bello, va voli. La Matrix è ovunque, è ovunque, anche ora in questo periodo. Si puoi vedere quando guarda la porta, o quando guarda la porta. La Matrix è ovunque, è ovunque, è ovunque, è ovunque. La Matrix è ovunque, è ovunque, è ovunque, è ovunque. La Matrix è ovunque, è ovunque, è ovunque, è ovunque, è ovunque. È ovunque, è ovunque, è ovunque. Daachatliches l'ind Informazione del campioidenso, appregedi dal campio dietro è ovunque. Hé, la Ani, è ovunque, è ovunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Zoomiamo un po'. Vediamo se potete vedere la nera. Ok. La vallata del Tronto. Questi dovrebbero essere Sibillini. Queste sono le Marche. Il castello medievale è lì. E' il nostro cinquino Abarth che ha fatto la sua corona scalata.